E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video Spacchettamento, patatine ragazzi, sì E stiamo parlando in particolar modo di Mascia e Orso A chi è che non piace Mascia e Orso? A tutti i bambini piace Mascia e Orso, vero? E oggi sono qui per aprirle con voi E scoprire quali belle sorpresine si nascondono al loro interno Vi do anche un bellissimo saluto Briciola Vieni qui Briciolino E vi possiamo anche dire che L'intervista che è andata in live ieri Su Shik Games 87 Condotta da Maxi Junior Grandissimo anche Michele Posa Che ha fatto anche il suo commento Dicendo che io sono stata molto brava Che ho già un modo di fare Un atteggiamento da vera youtuber Grazie mille anche a Michele Posa Che ha detto così Ricordiamo che Michele Posa comunque È un telecronista della WWE Io la chiamo così Insomma un wrestling Io adoravo Re Misterio quando ero piccola La 619 Oppure John Cena John Cena Ed è in tv da oltre 20 anni E per chi fosse interessato Michele Posa Il grandissimo gui di telecronista Adesso è su D-Max Ogni lunedì e martedì Alle 23 e un quarto di sera Mi raccomando Andatelo a seguire E seguiti anche il canale Shik Games 87 Condotto da Maxi Junior Mi raccomando Sul viola Sul viola E quindi nulla Ieri sono andata in diretta Sono stata contenta Perché comunque Sono felicissima Sono molto felice Che era successo il fatto Che appunto Non sono potuta andare in diretta Invece diciamo Avantieri Quindi sabato E quindi avevo spostato a ieri Però è andato tutto bene Io sono felice Ho ancora lì la locandina Sono stata veramente Ero emozionata comunque Comunque è andato tutto bene Anche questa è andata È stata una bella collaborazione Io adoro E' stato bello E' stato uno scambio di idee E' stato una Cioè a me è piaciuto E giuro Mi sono addormentata tardi Anche perché appunto Ero molto emozionata Avevo ancora dell'adrenalina in me Ma adesso partiamo subito Non perdiamoci in chiacchiere Andiamo con la sigla Allora ragazzi Oggi avrei dovuto Dopo che ho inaugurato ieri La mia maglietta diciamo L'avrei dovuto indossare Già da oggi Soltanto che l'ho messa a lavare Quindi l'ho messa ad asciugare Quindi me la vedrete indosso In altri video più avanti E sì La maglietta che ho utilizzato ieri Se vi siete persi il video Andatevelo a diciamo A recuperare Che c'è ancora sul viola Sul canale Shikagames87 appunto E nulla ragazzi Se volete Iscrivetevi al mio canale Priciate sul tasto Dalla ding dong Campanellina Lasciatemi un like Di supporto Commentate se volete Che vi saluti Nel video di domenica prossima E condividete i miei video Con chi volete Come volete Per aiutarmi a sostenere il canale Ma adesso partiamo subito E non perdiamoci in chiacchiere Allora Io ho qui due pacchetti Ben due quindi Di mascia e orso Ora da quale vogliamo iniziare Penso sia uguale Io inizierei da questo Allora Qua dice Scopri tutte le Bellissime sorprese 30 grammi Vedete Non c'è Di disegno della sorpresa Potrebbe essere Qualunque cosa E giuro che non mi sono andata A spulciare video su youtube Quindi In realtà non lo faccio mai Perché Anch'io voglio rimanere Diciamo Meravigliata Quindi Se andassi a vedervi su youtube Tutti i video Non lo sarei 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Che cosa ho trovato Intanto vuole mangiare Una patatina E che è Ma cosa ho trovato Raga Una cosa blu Non lo so Vediamo C'è l'apertura facile Dimmi di si Per piacere Dimmi che c'è L'apertura facile Mai una gioia Allora Mai una gioia Ragazzi Oddio Magari c'è pulso Lì che non la vedo ancora Mi devo ancora svegliare Raga Perché sono andata tardi A dormire ieri Però era troppo emozionata Ma che cos'è Cioè io conosco soltanto Due personaggi Di questo cartone Masha e Orso Ma chi è lui? Chi lo sa Gentilmente Potrebbe scrivermelo Giù nei commenti Ah ok Comunque dovrebbe essere Credo Un pen top Cioè Praticamente Un cosino Da infilare Sul Sulla testa Diciamo Della matita O della penna Può essere ragazzi Mi fate sapere Gentilmente Nei commenti Di che personaggio Si tratta se lo sapete Grazie mille Baci fashion Per tutti La prima sorpressina L'abbiamo vista Un'altra patatina E basta Vediamo se c'è Un'altra sorpresa Dentro ma non credo Comunque ragazzi Come potete notare Sono le rustiche Non sono le classiche Patatine lisce Sono le rustiche Sì le grigliate Chiamatele come volete Queste qui Della salati preziosi Quindi le rustiche Mi piacciono di più Di quelle normali Della salati preziosi Un bel otto e mezzo pieno Per queste patatine Adoro Top E adesso passiamo All'altro pacchettino Io la verità Speravo di trovarci Dentro Marsha Oppure Orso La verità Più Orso Che Marsha Va bene Oddio Si vede che sto dormendo Cioè io volevo aprire Il pacchetto di patatine Con le forbici Vabbè raga Perdonatemi Ma ieri è stata Una giornata piena Di emozioni Uno Due Tre Uno Due Tre Ah mi raccomando Li mettete sintetizzati Perché oggi pomeriggio Uscirà un video Particolare Oddio Un video Che mi piacerà Sicuramente Tantissimo Ci sarà Qualcosa Che andrò a spacchettare Dico soltanto A tema di edicola Che si trova in edicola Quindi qualcosa che Se vi piacciono Le cose pucciose Che magari Avevate quando Andravate piccoli O comunque Piacciano i bambini Vi può interessare Molto bellino Come video Però non posso dire Nient'altro Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due Tre Patatine Venite a me No Non mi dire Cioè ho trovato La stessa cosa Raga Ma chi è sto personaggio Io volevo trovare Marsha oppure Orso Speravo nell'Orso Ma almeno in Marsha Ma io non so Ma non è che si sono sbagliati A mettere Sto da cosa Cioè Io prendo le patatine Di Marsha e Orso E mi ritrovo E mi ritrovo Le patatine Di Batman Superman Apeman Che Cioè Ma chi è della Marvel Non so Ma chi è sto personaggio Cioè Mi sembra più tipo Una specie di Batman Taroccato Cioè un Un Batman Taroccato Sì vedete Cioè è strano Un'ape Ma chi è Cioè non saprei definire Cos'è un fantasma Formaggi Cioè Chi è questo Ma chi Ma chi sei Ma chi ti conosce Io volevo Marsha e Orso Vabbè fa niente È data così raga Pazienza Gentilmente potete dirmi Nei commenti Chi è sto personaggio Cioè io non saprei Chi Cioè non so che cos'è Non lo so Vabbè Io veramente Vi ricordo di iscrivervi Al mio canale Piggere sul tasto Della campanelline Lasciarmi un like Di supporto Commentate se volete Che vi saluti Nel video di domenica prossima Mi raccomando Condividete i miei video Per aiutarmi a crescere Un po' di più Quindi a sostenere il mio canale Io vi mando Un abbraccio immenso E un bacione Della vostra Gilda Fashion Ciao qui Ciao a tutti i miei video di